La nostra missione è salvaguardare i vostri investimenti negli Anilox, che è un valore significativo per qualsiasi azienda che stampa. Ecco perché garantiamo nel contratto la sicurezza di ogni Anilox pulito con il nostro macchinario laser. Produciamo il telaio con il metodo della fusione per i macchinari di portata oltre i 200 kg e il sistema di fissaggio per ruotare anche i rulli Anilox pesanti senza battere. La nostra attrezzatura consente di pulire un metro della superficie dell'Anilox entro 10 minuti. A causa della messa a punto più precisa, gli impulsi laser hanno la stessa densità su tutta la superficie del rullo Anilox. La nostra esperienza, con oltre 50.000 cilindri Anilox di tutti i tipi e dimensioni, ci ha permesso di automatizzare il macchinario ed escludere il fattore umano. Salviamo l'intera cronologia di pulizia di ogni Anilox nel database cloud e si può importarla facilmente nel VRP, sistema dell'azienda. Alcuni dei nostri clienti hanno pulito più di 20.000 cilindri Anilox con la nostra tecnologia e alcuni sono stati puliti più di 400 volte. Questa esperienza ci consente di garantire la sicurezza dell'Anilox dopo la pulizia per tutto il periodo di funzionamento. Abbiamo fornito i nostri macchinari in 10 paesi, quindi possiamo integrarlo in ogni azienda in tutto il mondo. Se l'azienda possiede più di 70 cilindri Anilox, salvaguardarli e tenerli puliti con Laser Eco Clean sarà un'ottima decisione.